Fratelli rossolieri amici rivali YouTube, buonasera, 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 chiedo scusa, chiedo venia se oggi vi ho rimbalzato sia alle 2 che alle 6 ma sono stato in giro a visitare la città, la città veramente bellissima, una città veramente stupenda, una devo dire veramente sia a livello artistico che comunque sia ma anche a livello anche organizzativo comunque pensavo che erano molto più indietro invece l'unica cosa che non mi è piaciuta in questa città qua, voglio dire il kebab, perché anche ieri sono andato fuori a mangiare ho mangiato benissimo, sono qua adesso in un ristorante italiano, 15 di italiani, siamo praticamente il mio socio, che salutiamo, eccolo qua a mano, però a parte il kebab devo dire che comunque in queste altre parti si è mangiato comunque bene, ci stanno cercando di imitare anche molto bene, il kebab proprio per me è molto più buono, no è molto più buono da noi, cioè non c'è neanche proprio ombra di paragone. Detto questo ragazzi, che dire, oggi facciamo una live alle ore 21, alle ore 21 vi prometto che entro in live facciamo un'oretta, facciamo e niente, un'esperienza veramente bella, una città molto affascinante, un traffico della Madonna, veramente un traffico della Madonna, un traffico allucinante e niente. Altre notizie, ci sono tante assenze per domenica, sia da noi che da loro, la partita sarà equilibratissima, danneggiata dalle assenze, ma comunque scommetto che sarà una bellissima partita, anche se sarà una partita, secondo me, più che spettacolare, sarà una partita molto tattica, secondo me. Siamo già in clima partita, ma ne parliamo stasera, e niente, domani ritorno a casa, per le ore 13.30 sarò a casa, quindi alle 14, dopo ci vedremo in live, visto che il video della mattina non lo potrò fare che sono in aeroporto, o meno che, anzi no, lo farò dall'aeroporto magari, e basta. Niente, a ore 21 ci vediamo in live, ciao a tutti.